Benvenuti. Devo dirvi quello che è successo agli ultimi proprietari. Non mi dirai che sono morti qui dentro? Sì, invece. La prendiamo. Per quanto tempo vuoi punirmi per quello che ho fatto? Non dirò niente. Devi andare via da quella casa. No, lei dai, qui dentro. Che ci fai in casa mia? Di che cosa hai paura? Di tutto.